Il segreto di Tarser Studios nel rendere la sua piccola saga così interessante sta tutto nelle parole recitate da Darren Brown nell'ultimo trailer rilasciato per l'uscita di Little Nightmares 2. Sembra così sbagliato ma allo stesso tempo così vero perché quando ti svegli con l'affanno e il sudore sulla fronte quella sensazione rimane, l'incubo è arrivato nel mondo reale. Prima di continuare se non lo avete ancora fatto vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube per non perdere tutte le prossime novità ricordandovi di venirci a trovare mensilmente in edicola e quotidianamente sul nostro sito TheGamesMachine.it Nella città pallida tutto è andato in rovina. Le strade all'interno dei palazzi ricurvi e deformi rivelano una tragica realtà, quella di tantissime persone che sembrano svanite nel nulla e di altrettante che hanno ormai perso il senno, incantate davanti ai loro televisori desintonizzati o tramutate in creature mostruose che di umano hanno ormai poco o nulla. Mono però sa che non è il momento di lasciarsi prendere dalla paura. Dopo essere arrivato misteriosamente in un bosco con una busta di carta indossata a mo' di elmo fa una scoperta incredibile nel sinistro seminterrato di una casa. Una bambina, proprio come lui, rinchiusa in una sorta di stanza prigione dietro un pesante portone in legno. Salvandola da quella orribile situazione e dal cacciatore che fa da guardia l'abitazione, il giovane si ritrova però di punto in bianco trascinato in un vero e proprio incubo, che si rivelerà pian piano legato alla presenza della sinistra Signal Tower, dimora del misterioso Finman. Sono bastati solo due brevi ma intensi anni di lavoro agli sviluppatori svedesi per confezionare questa piccola nuova avventura horror single player, così ricca di meccaniche platform e puzzle chiamata Little Nightmares 2. Visto il generale apprezzamento dimostrato verso il primo capitolo, il team ha pensato bene di proporne un seguito quanto prima, optando però di non farci più vestire il piccolo impermeabile giallo di Six. Al suo posto c'è infatti un altro coraggioso quanto misterioso bambino, Mono, col quale esploreremo il mondo al di fuori delle fauci e faremo la conoscenza di un altro gruppo di terrificanti adulti. Se la nave degli orrori era riuscita a suo tempo a levarvi il sonno, siate pur certi che la città palida riuscirà a fare altrettanto. Buia, distrutta e abbandonata, riesce senza troppa fatica a essere persino più inquietante della precedente ambientazione, forse proprio perché ispirata maggiormente a luoghi familiari a tutti noi. Per farci strada in cerca di una via d'uscita o di un oggetto chiave avremo a disposizione solo una torcia o un telecomando, che ci consentiranno rispettivamente di attraversare in columni le sezioni meno illuminate e quelle più accidentate, usando i televisori come una sorta di portal gun. Così come la nostra vista, anche l'udito sarà un alleato prezioso per arrivare ai titoli di coda. Tarsier non si è fatta limitata a donare a Little Nightmares 2 una splendida colonna sonora, ma anche riuscì da renderla parte integrante dello stesso gameplay in alcune specifiche sezioni di gioco, ragion per cui è consigliabile munirsi di un buon paio di cuffie per godere appieno dell'effetto finale da brividi lungo la schiena. Tra le critiche mosse all'originale Little Nightmares c'era sicuramente la sua breve durata, poco meno di tre ore. In un certo senso, sembra che il team di sviluppo abbia rimediato a quella piccola delusione, donando a Little Nightmares 2 più longevità, dalle 5 alle 6 ore se ci si prende il tempo di esplorare e cercare collezionabili nascosti, e approfittandone per inserire al suo interno anche più meccaniche di gioco. La prima è quella che permette a Mono di difendersi o attaccare, solamente in determinate circostanze, brandendo oggetti di fortuna come martelli o bastoni, troppo grandi per le sue piccole mani e pesantissimi da sollevare. Si tratta naturalmente di colpire i nemici più piccoli e mai i boss di per sé, ma è abbastanza per accelerare un po' il ritmo tra un enigma e l'altro. Arrivati faccia a faccia con i veri antagonisti adulti della storia, tuttavia, la nostra migliore arma si rivela sempre la prudenza, e fuggire in columi significa trovare il modo migliore di sgattaiolare fuori dalla loro portata senza essere visti. A volte sarà sicuramente più facile a dirsi che a farsi, viste le peculiari dote fisiche di alcuni di loro, e dovremo essere pronti a sfruttare l'ambiente circostante per approfittare di nascondigli di fortuna, che siano essi delle scatole, delle pile di libri o scrivanie. Se la fuga disperata del primo capitolo era stata difficile, affrontare il distopico e raccapricciante mondo di Little Nightmares 2 è praticamente impossibile da soli. La seconda meccanica, già discussa nelle nostre anteprime, è proprio quella introdotta da Six. La bambina passa dall'essere protagonista e personaggio giocabile del titolo originale a spalla guidata interamente dall'intelligenza artificiale, che cammina a nostro fianco per buona parte del gioco. Anche se potremo richiamarla a noi con dei bisbigli o prenderla per mano per guidarla attraverso le sezioni più concidate, la piccola sarà assolutamente autonoma, e saprà perfettamente quando seguirci, nascondersi o interagire con oggetti chiave. L'intera avventura si baserà proprio sul rapporto tra lei e Mono, sia dal punto di vista narrativo che di gameplay, e non mancheranno situazioni al cardiopalma, nelle quali arriverete a chiedervi quanto siete disposti a spingervi per portare entrambi i fanciulli in salvo da quella spirale di puro terrore. Difficile trovare veri e propri difetti a Little Nightmares 2, a meno che non si abbia una vera e propria avversione per titoli così corti e che non presentino enigmi realmente impegnativi da risolvere. L'unica pecca è forse presente in alcune sezioni platform in cui, a causa della difficoltà nel capire perfettamente la posizione di Mono nello spazio tridimensionale, è stato richiesto più di qualche tentativo per completare un salto. Se avete apprezzato storie e gameplay di Little Nightmares, questo nuovo capitolo sarà un'altra piccola gemma da aggiungere alla vostra collezione videoludica.